Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Non è facile inserirsi dopo il primo intervento di questo pomeriggio, ma cercherò di farvi mantenere il sorriso, perché il sorriso, come chi ha detto, chi mi ha preceduto, nutre il nostro benessere. Il benessere è proprio un po' il tema di questo pomeriggio, di questa giornata di TEDx qui a Biella. In realtà quello che oggi il mio speech, insomma il mio racconto di questi 18 minuti potrebbe essere riassunto un po' come un invito. Potrei utilizzare anche la parola sfida, anche se sfida ha a che fare un po' con qualcosa di agonistico che lascia un po' il tempo che trova. Invito è qualcosa di più accogliente. Ma perché vi parlo di invito esattamente? Perché vi parlo di benessere. Il mio vuole essere un invito a stare bene. E come facciamo noi a star bene? Sicuramente respirando, perché l'ossigeno, anche se non ci dà calorie, ma è il primo nutriente del nostro organismo. Perché se provate a tapparvi il naso, riuscite a resistere. Non fatelo, solo qualche secondo e non molto di più. Magari per i più allenati, sentivo prima qualcuno che parlava di subacquea, magari anche qualche minuto. Poi dobbiamo nutrirci. E il nutrimento, in realtà, è l'atto quotidiano che facciamo più spesso per alimentare il nostro organismo. E quindi capite già che come ci alimentiamo conta. Perché conta? Perché induce noi stessi a star bene. Oppure a non star così bene. Il mio invito vuole essere appunto quello di ripensare un po' il nostro benessere. Per quale motivo? Perché la parola benessere è indubbiamente una delle più utilizzate oggigiorno, insieme a cambiamento. Perché comunque quando noi vogliamo star bene, quindi ritrovare questo nostro benessere, cerchiamo di cambiare quelle che sono le nostre abitudini quotidiane. Per trovare appunto una nuova armonia, un nuovo equilibrio. Dobbiamo pensare che in realtà benessere ha a che fare con tanti aspetti. Perché quando pensiamo a star bene, quando pensiamo a benessere, la prima cosa che ci viene in mente è il nostro medico, l'ultima volta che ha visto i nostri esami del sangue, che ci ha detto, guarda qua devi iniziare a fare esercizio fisico piuttosto che devi cambiare alimentazione. O magari entrambe le cose insieme. In realtà la parola benessere vuol dire stare, stare bene, a livello fisico ma anche a livello mentale. E queste due sfere sono fortemente connesse tra loro. Capite quindi che ciò che noi introduciamo all'interno del nostro organismo può nutrire il nostro star bene quotidiano, sia a livello fisico ma anche a livello mentale. Una delle, chiamiamole scuse, più gettonate è quella di dire ma io sono sempre stato così sin dalla nascita, oppure la mia famiglia è sempre stata così. In realtà vi porto una notizia molto interessante che il nostro DNA ha a che fare col nostro star bene solo per il 15-20%, dipende dall'autore che più preferite. Sinclair parla di 15, invece Camillo Ricordi, un grandissimo ricercatore italiano sul diabete che lavora a Miami, parla del 20%. Ad ogni modo siamo lì, 15-20%. Invece che cosa accade? Che tutto il resto, quindi il 75-80% ha a che fare con le nostre scelte. In altre parole, come il DNA si adatta, quindi il nostro DNA, i nostri geni si adattano all'ambiente in cui viviamo. E ambiente quindi vuol dire il nostro pianeta e vuol dire anche il cibo che noi portiamo a tavola. Per questo è molto importante cercare di scegliere con consapevolezza cosa noi mettiamo a tavola, perché è facile dire mangiare tante verdure, mangiare ogni tanto la carne scegliendo quella con più basso apporto ad esempio di grassi saturi, cercare di ridurre quelli che sono gli zuccheri o comunque i carboidrati raffinati, ma in realtà non sono delle linee guida così semplici da adottare. Dobbiamo capire che, come vi dice un attimo fa, il nostro organismo, quindi il benessere del nostro corpo è fortemente connesso con il nostro ambiente. Di conseguenza il nostro benessere, come vi dice un attimo fa, è legato all'ambiente in cui viviamo. Io l'immagino un po' come due facce di una stessa medaglia. Non possiamo pensare al nostro benessere trascurando quello che è il benessere del nostro pianeta, quindi dell'ambiente. Tanto per farvi capire, entrare un po' più nel dettaglio di quello che vi sto raccontando, quindi un po' più concretamente, questo è un grafico tratto dal mio libro I superalimenti, dove ho parlato proprio di questi alimenti super che nutrono noi, ma nutrono anche in maniera positiva l'ambiente in cui viviamo e balza subito all'occhio che in cima alla lista inevitabilmente ci sono le carni o comunque i prodotti di origine animale, soprattutto appunto la carne di agnello, la carne di manzo che è tra le più consumate in Italia, il formaggio, il latte, la carne di maiale, sono quelle più impattanti sul nostro ambiente, quindi sono le scelte alimentari che in realtà purtroppo nutrono in maniera negativa il pianeta in cui viviamo. Capite dunque che ogni volta che noi facciamo una scelta al supermercato oppure dove noi acquistiamo gli alimenti, diventa fondamentale per cercare di nutrire positivamente non solo noi stessi, quindi il nostro corpo e la nostra mente, ma anche l'ambiente in cui viviamo, proprio perché sono due sfere fortemente connesse tra loro e soprattutto ne parliamo molto in questi giorni perché ad esempio tanti tumori, se vogliamo entrare nel mondo appunto delle patologie, sono legate con l'inquinamento, con il cattivo, l'inquinamento e comunque la cattiva aria, la cattiva qualità del mondo in cui viviamo. Quindi il cibo che portiamo a tavola è fonte di vita per noi e per il pianeta, quindi come noi nutriamo noi stessi stiamo pensando anche che nutriamo positivamente o negativamente il nostro pianeta. Le nostre scelte contano e influiscono su come vogliamo sentirci e sulla qualità del mondo in cui vogliamo vivere. In realtà una buona notizia in tutto questo c'è che un cambiamento è già in atto perché negli ultimi anni si sta già osservando una diminuzione del consumo di carni ad esempio che come abbiamo visto è uno degli alimenti più impattanti sul nostro ambiente, quindi quelli che nutrono in realtà l'inquinamento del nostro ambiente. È un cambiamento molto lento ma questa è un'altra bella notizia, adesso vediamo esattamente perché e il processo di rinnovamento di conseguenza è già iniziato e potrà portare un po' benefici anche a tutto l'ambiente. Come vi dicevo prima questo è un duplice vantaggio perché fare delle scelte consapevoli per il nostro pianeta porta un vantaggio a livello di salute, quindi ci fa stare meglio. Se noi iniziamo a ridurre la carne, adesso vi racconto esattamente come, anche solo una scelta settimana questo potrà giovare anche al pianeta in cui noi viviamo. Come si cambia? Quindi entriamo un po' più nell'aspetto pratico. Come possiamo cambiare? Sicuramente la prima regola è gradualità, quindi è progressione, non un cambiamento drastico. Oggi è sabato, di solito le diete iniziano a lunedì, ecco quindi non dal lunedì cambiamo completamente. Iniziamo a fare un piccolo passo ogni giorno. I cambiamenti drastici infatti come sappiamo non durano nel tempo. Quando terminate ad esempio le feste di Natale diciamo ma da domani, dal 7 gennaio, subito mi metto a dieta e taglio tutto, faccio esercizio fisico, mi iscrivo in palestra, beh è qualcosa che purtroppo dura poco e lascia un po' il tempo che trova. Un piccolo cambiamento ogni giorno in realtà ci porta a un guadagno che diventa più saldo nel nostro tempo. Come possiamo fare? Innanzitutto eliminare un piatto di carne a settimana. Proviamo a contare le volte che portiamo la carne a tavola durante la nostra settimana e proviamo a eliminarne una, soprattutto a partire ovviamente dai tagli più impattanti sull'ambiente come la carne di agnello piuttosto che la carne di manzo che è molto diffusa. Preparare un piatto a base di proteine vegetali per non perdere i nutrienti in realtà che la carne ci dà. E adesso vedremo che non è così scontato togliere la carne e inserire i legumi o inserire la mozzarella come spesso si fa. C'è un processo molto importante per non perdere tutti i nutrienti, micro e macro. Possiamo utilizzare dei semi, delle erbe aromatiche ad esempio come condimento che sono peraltro ricchissimi di grassi buoni e soprattutto le erbe aromatiche di polifenoli che sono un po' sistema immunitario del mondo vegetale che una volta che noi lo assumiamo si trasformano a livello intestinale in batteri buoni e arricchissono quello che è il nostro di sistema immunitario. Ovviamente anche queste devono essere di alta qualità. E poi non mi ero messa d'accordo con chi ha parlato prima di me ma mi raccomando sempre un limone fresco in cucina. Sicuramente se avete vissuto l'esperienza del talk precedente vi ricorderà di sorridere ma quel limone in realtà, quel succo di limone ci può essere anche molto utile ad esempio nei legumi o magari anche in alcuni tagli di pesce, anche sul pesce ci sarebbe un po' da discutere. Per quale motivo? Perché ci aiuta ad assorbire un nutriente, un micronutriente che noi perdiamo soprattutto riducendo la carne che è il ferro. Il ferro in realtà ce n'è anche nei legumi, sicuramente in più piccola quantità, è meno disponibile ma ad esempio il succo di limone ci aiuta tantissimo a potenziare quello che è il sapore ad esempio dei legumi e al tempo stesso anche a favorire l'assorbimento di tutti questi micronutrienti. Natura non fa cittsaltus come dicevano Linneo e Leibniz. Cosa vuol dire? La natura non fa salti, una regola che vale nell'alimentazione quotidiana, nella vita più in generale e anche nell'attività sportiva perché se guardate ad esempio i record del mondo, ora si parla tanto di maratona, cosa accade? Che c'è un record, poi tutti gli atleti vanno vicino e poi di nuovo tutti gli atleti fanno quel record. Di nuovo c'è un altro record e via dicendo. Quindi non c'è un salto grande ma ci sono dei passetti quotidiani che nel tempo ci portano a migliorare. Quali alimenti possono aiutarci a fare un po' il pieno di proteine sostituendo quelle di origine animale, sicuramente quelle di origine vegetale, quindi i legumi, i legumi sono un po' la base delle popolazioni del mondo, quasi tutte le popolazioni ne contengono. È fondamentale abbinarli sempre, ricordatevi, ai cereali. Per quale motivo? Perché una proteina dovreste immaginarla come un treno fatto da 20 vagoni. Che cosa accade? Che i legumi ne hanno solo un tot, a seconda poi del legume che noi andiamo a scegliere. I cereali vanno a completare questi mattoncini, questi vagoni che ci permettono di montare questo treno. Quindi unendo i legumi e i cereali in un rapporto circa di 3 a 1 possiamo ottenere tutti i mattoncini, o meglio tutti i vagoni che hanno le nostre proteine. Poi la frutta secca oleosa, cercando di preferire quella più ricca in omega 3 e più bassa in omega 6, perché di omega 6 ne abbondiamo la nostra alimentazione, ci portano un po' alla lunga di infiammarci e invece cercare quelli con una più ricca concentrazione di omega 3, come ad esempio le noci, piuttosto che gli anacardi, o anche le mandorle che sono ricchissime di vitamina E, fondamentale ancora più per le donne, per le donne in pre-menopausa e menopausa. E poi i semi, ricordatevi che con i semi si possono cucinare tantissime cose. Sono una grandissima appassionata di cremataini che vi invito ad assaggiare e ne resterete colpiti se ancora non la conoscete. Quindi ricordiamoci che la nostra mente può accettare per natura, non può accettare per natura dei cambiamenti repentini. È stata progettata per sopravvivere, adattarsi più velocemente possibile. Il nostro corpo invece no, deve fare dei piccoli passi ogni volta. Quindi se la nostra mente è stata progettata per fraffronte ai periodi di stress, quindi a quelle situazioni attacca o scappa, il nostro corpo invece deve essere allenato quotidianamente anche attraverso l'alimentazione. Ogni modificazione ha bisogno di un periodo cosiddetto di aggiustamento. Facci il caso, quando iniziate a camminare o fare esercizio fisico, il giorno dopo avete mal di gambe. Ovviamente ogni volta riuscite a fare un qualcosina in più, che nel lungo periodo se vi guardate indietro dite ma cavolo avevo iniziato da 20 minuti e adesso sono arrivata un'ora e mezza di cammino. La stessa cosa per l'alimentazione, quindi gradualità in ogni cambiamento che ci porta a star bene, ci porta a stare sempre meglio e soprattutto a far sì che questa nuova abitudine diventi uno stile di vita. Si dice che una nuova abitudine nasce in circa 20 giorni, quindi un piccolo cambiamento deve essere continuamente ricorrente in questi 20 giorni affinché poi diventi un'abitudine acquisita. Quindi una parte di noi a cui ormai non pensiamo più e facciamo appunto senza quasi rendercene conto ma che è comunque positiva. Diventiamo quindi degli attori consapevoli del nostro benessere, del benessere nostro fisico e mentale ma anche di quello dell'ambiente in cui viviamo. È un processo che deve essere fatto con gradualità, con progressione ed è un processo che ci porta non solo a essere longevi ma a essere longevi in benessere. Quindi parliamo di longevità sana, parliamo di arrivare in là con gli anni ma stando bene, riducendo quelle che sono le malattie del nostro organismo. L'essenza quindi non è più nell'etichetta di stile come ho riassunto qui, non è più dire sono vegano, sono vegetariano, decido di fare questa scelta, ma iniziare tutti quanti noi insieme a fare un piccolo passo in questa direzione che nell'insieme poi ci porta veramente a un'abitudine acquisita. Io so che ho corso un po' con i consigli ma il mio invito vuole essere proprio questo, cambiare, cambiare in progressione con un piccolo passo perché come sappiamo ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo e poi quando ci guardiamo indietro magari in queste belle montagne che sono intorno a via le diciamo caspita quanto sono salito in alto e non me ne sono reso conto in questo paesaggio. Quindi è molto importante cercare di creare un piccolo cambiamento. Partiamo dalla cosa che più ci piace e che magari ci viene anche facile fare. Per quale motivo? Perché così diventerà un qualcosa che ci porteremo avanti nel tempo. Quindi spero che il mio invito a cambiare, a cambiare in meglio, a creare questo nuovo cambio di passo nel nostro benessere, in quello dell'ambiente, possa essere accolto. Adesso sta a voi insieme e a noi cercare di migliorarci giorno per giorno. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di aver messo anche solo un piccolo seme di curiosità per quanto riguarda questi argomenti all'interno di voi stessi. Grazie.